Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono in M2 alla stazione di Lambrata FS e aspetterò il treno per Assago Milano Fiori Forum e scenderò alla stazione di Loreto per interscambiare con la M1. Buona visione! Buona visione! Ecco la veletta per Assago Milano Fiori Forum del Leonardo Una persona mi ha appena salutato a bordo treno Ragazzi questo video è terminato, spero che vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti!